In Abruzzo solo il 30,93% delle scuole statali ha la certificazione di agibilità statica e solo il 31,96% è provvisto di certificato prevenzione incendi, dati alla di sotto della media nazionale che vengono fuori dall'ultimo rapporto di cittadinanza attiva e sui quali si sono espressi i giovani democratici abruzzesi parlando di una situazione allarmante. E se il 56,6% delle scuole della nostra regione ha effettuato il collaudo statico, in questo caso un dato sopra la media nazionale che si ferma al 54,88%, il quadro torna a farsi più scuro se si parla di piani di evacuazione. In Abruzzo infatti solo il 33,1% delle scuole statali è dotato di questo strumento. Il confronto con la media nazionale, 82%, in questo caso è impietoso, ancora di più se si considera la natura sismica del territorio abruzzese, con 631 scuole statali che si trovano in zone di rischio 1 e 2. Ed a proposito di terremoto, rischio tellurico e normativa antisismica, tante scuole abruzzesi sono datate, solo il 10,4% degli edifici scolastici risulta progettato secondo i dettami legislativi vigenti. Alla luce di questa situazione i giovani democratici abruzzesi chiedono essenzialmente due cose. Da un lato maggiori investimenti pubblici per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, affinché tutti gli istituti possano essere adeguati agli standard antisismici e dotati delle certificazioni innecessarie, e poi continuare a promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione tra studenti, docenti e personale scolastico.